Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video un po' particolare in cui parleremo di uno dei personaggi più, come dire, folli, sconsiderati, scombinati, indisciplinati, insubordinati e, diciamo, interessanti della Seconda Guerra Mondiale, perché parliamo di Kurt Nispel, ovvero sia colui che è universalmente riconosciuto come il più abile pilota, comandante di carri armati della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, mettiamola così, avete visto la foto della pagina di apertura? Kurt Nispel era un personaggio decisamente molto, molto, molto particolare. Diciamo, ventenne, partecipò, era nato nel 1921, all'età di vent'anni, si ritrovò a partecipare all'operazione Barbarossa come cannoniere, come, sì, come cannoniere di un, di un, eh, di un Panzer IV, ehm, era, dunque, aspettate, eh, se non ricordo male, fu inquadrato nel, eh, ventinovesimo reggimento correzzato della dodicesima Panzer Division. Nispel era un personaggio abbastanza particolare, portava i capelli lunghi, portava la barba, era tatuato ed era un personaggio che amava decisamente poco la disciplina militare, era un personaggio che viaggiava sempre sul filo della corte, della corte marziale. Cioè, siamo sinceri, se non fosse per il fatto che aveva distrutto, sia come cannoniere che come capocarro, aveva distrutto, aveva distrutto una cifra, mettiamola così, le cifre ufficiali parlano di 168 mezzi corazzati, nemici distrutti da parte di Nispel, sia come cannoniere, sia come capocarro. Qualcuno afferma che, eh, invece siano, eh, 190 le vittorie di Nispel, ma questo, oggettivamente, cambia poco. Non andò mai oltre il grado di Feldbevel, come, vi chiedete, come, un, 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 un asso così bravo, un carista così bravo, è un, 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 no, non andò mai oltre il grado di Feldbevel. Sì, il miglior combattente, il miglior asso della Panzerwaffe non andò mai oltre il grado di maresciallo. Ebbene sì. Perché? Allora, è un discorso un po' lungo. Nispel, contrariamente a, diciamo, contrariamente al suo contraltare, l'arcinoto e sopravvalutatissimo baronesso nero Michael Wittmann non era un cocco della propaganda. Era di sentimenti tutt'altro che nazisti, anzi, anzi, i rapporti che parlano di lui parlano di un, ripeto, parlano di un sotto ufficiale molto indisciplinato, insofferente delle regole militari, assolutamente poco amante del nazismo e delle sue fregnacce, tant'è che, come dire, uno dei suoi primi e più grossi guai con la giustizia militare lo ebbe quando aggredì un poliziotto, uno dei, insomma, un membro degli Einsatzgruppen, aggredì un membro degli Einsatzgruppen che stava picchiando un prigioniero russo, Nispel vide la scena, non ci pensò due volte, prese, arrivò, gonfiò di legnate. Il poliziotto, il, nota bene, gli Einsatzgruppen appartenevano alla ORPO, la Urdnung Poliziai, lo stesso corpo a cui apparteneva l'OSS Poliziai Regiment Busen, ok, chiusa parentesi. Dicevo, Nispel, a quanto pare, vide questo membro degli Einsatzgruppen picchiare brutalmente un prigioniero russo, Nispel non ci pensò due volte, arrivò, gonfiò di botte, cioè proprio, i rapporti parlano di un Nispel che praticamente mandò all'ospedale il milite degli Einsatzgruppen, lo mandò all'ospedale per difendere questo prigioniero russo e questo gli costò tanti, 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 tanti problemi. Gli costò la promozione a ufficiale, gli costò tutta una serie di mancate decorazioni. Venne deciso dopo l'ennesimo atto sconsiderato e di indisciplina che fece perché ne fece veramente di tutti i colori, sotto le armi Nispel ne fece di tutti i colori, cioè giunse al punto. Allora, il discorso è questo qua. Lui faceva parte, alla fine della guerra, Nispel era entrato a far parte del 503esimo battaglione carri pesanti della Wehrmacht. Nispel non era una SS, contrariamente a Wittmann, era della Wehrmacht e contrariamente al suo contraltare delle SS, Michael Wittmann, ripeto, non era molto amato dalla propaganda, non era molto amato dai suoi superiori e fu deciso nelle alte sfere di non dargli mai la croce di cavaliere della croce di ferro. Volete sapere perché? Perché praticamente aveva, come dire, sul fronte orientale, Nispel si era trovato ad avere dei problemi con pezzi di ricambio. Insomma, praticamente il suo reparto non aveva rifornimenti, non aveva ricevuto rifornimenti. Servivano pezzi di ricambio, serviva carburante, serviva cibo. Perché non c'erano rifornimenti per il 503esimo Schwerpanzerabteilung della Wehrmacht, c'era un momento di crisi dei rifornimenti. Che cosa fece Nispel? Cioè, vi dico solo questo, tenetevi forte, Nispel prese, arrivò in una stazione ferroviaria, individuò un convoglio fermo di rifornimenti, prese, lo rapinò. Cioè, Nispel arrivò, prese, portò via una valanga di pezzi di ricambio, portò via cibo, alcol, soprattutto alcol, e munizioni, armi e munizioni, e portò via tutto. Cioè, praticamente, rapinò un treno, cioè, vi rendete conto? Cioè, questo era talmente fuori di testa da rapinare un treno militare pur di rifornire i suoi commiltoni, pur di, come dire, avere di che mandare avanti il suo reparto. Cioè, un fuori di testa, un assoluto totale, completo fuori di testa. Cioè, ma di fatti basta vedere, cioè, basta vedere le sue poche foto. Cioè, era, come dire, bello, era un bel ragazzo, portava la barba lunga, portava i capelli lunghi per l'epoca, era tatuato, non era, come dire, sempre azimato, perfetto, elegante. No, le poche foto che lo ritraggono ci mostrano uno, ci mostrano uno stramaledetto metallaro, capelli lunghi, barbone, sorriso sfacciato, giacca della divisa indossata, praticamente, a petto nudo, un pazzo furioso. Kurt Nispel non può essere definito altro che come un pazzo furioso. E tutti lo ammiravano, tutti gli volevano bene, a parte negli altri comandi, che, ripeto, dopo la sua rapina al treno, cioè, quando, ripeto, arrivò, prese, svaliggiò praticamente questo treno, ripeto, pezzi di ricambio, cibo, alcol, e quant'altro, caricò tutto sui suoi carri armati, arrivò al, arrivò al suo, arrivò al 503esimo battaglione, carri pesanti, distribuì la roba che aveva rapinato dal treno ai suoi commilitoni, ai suoi ufficiali, ai suoi uomini, e lo arrestarono, cioè, rischiò di essere fucilato per avere rapinato un treno, ma vi rendete conto? Cioè, l'esatto contrario, cioè, realmente l'esatto contrario di quello che è l'immaginario del soldato tedesco nell'immaginario collettivo, cioè, noi tutti ci pensiamo, pensiamo al soldato tedesco come lindo, elegante, nella sua divisa nera da carrista, cioè, insomma, prendiamo un carrista, no? Cioè, noi ce lo immaginiamo come Wittmann, cioè, azimato, tutto elegante, tutto bello, tutto fighetto, tutto tirato a lucido, no, 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 Nispel era l'esatto contrario, era una grandissima testa calda, cioè, era, cioè, io penso che se voi avete presente, allora, sapete bene che io ho una venerazione assoluta per quel bellissimo film con Clint Eastwood che si chiama I guerrieri, Kelly's Heroes, ok? Guardatevi quel film, prendete il personaggio di Oddball, testa matta, il personaggio interpretato da Donald Sutherland in quel film, e avrete qualche cosa che si avvicina moltissimo al personaggio di Kurt Nispel. Assomigliava, cioè, praticamente, testa matta, io non lo so, allora, io adoro quel film, ma credo che gli sceneggiatori di Kelly's Heroes, gli sceneggiatori dei guerrieri, per il personaggio di testa matta si siano ispirati, si siano ispirati proprio a Kurt Nispel, perché se voi guardate le foto di, insomma, se voi guardate il Donald Sutherland di quel film, se voi guardate testa matta, e guardate le foto di Kurt Nispel, cioè, oggettivamente, il sospetto che testa matta, Oddball, sia stato ispirato dal personaggio di questo carista tedesco, insomma, la somiglianza fisica c'è, il sospetto può venire, però, diciamo che questo forse rimarrà tra le cose, tra i forse e i si dice, devo chiedere all'amico Giovanni Cecini che su queste cose la sa molto più lunga di me. Ripeto, Nispel combatté esclusivamente sul fronte orientale, conseguì, come artigliere, se non ricordo male, conseguì una novantina di vittorie come cannoniere. Poi fu passato capocarro e il resto delle sue 168 barra 190 vittorie perché, ripeto, il suo ruolino di servizio è abbastanza misterioso. Non sappiamo con precisione, cioè, si dice che sia stato citato nei bollettini di guerra, lui, semplice Feldwebel, maresciallo, lui, semplice maresciallo, citato, come dire, nell'ordine del giorno, nei bollettini dell'ordine del giorno, aveva il, ripeto, sembra, sembra, non è neanche sicuro che l'abbia ricevuta la croce di ferro di prima e di seconda classe. il distintivo del distruttore di carri e basta. E voi vi chiedete ma come come cacchio è possibile sta cosa? Cioè, a Wittmann coperto di onoreficenze, croce di cavaliere, medaglia di qua, medaglia di là, medaglia di sotto, medaglia di sopra. C'era un motivo, c'era un motivo, c'era un motivo. Innanzitutto, innanzitutto, Knispel, ripeto, siamo sinceri, Knispel, i nazisti e il nazismo stavano pesantemente sul cazzo. E se non fosse stato per il suo stato di servizio avrebbe fatto sicuramente una brutta fine. tant'è che, ripeto, ripeto, aveva ricevuto solo l'ordine militare della croce tedesca in oro, il distintivo da battaglia in argento per Carristi, forse la croce di ferro di prima e seconda classe, ma questo non è sicuro. le fonti non sono per niente concordi sulle onorificenze ricevute da Knispel e il insomma sembra sembra che fu citato nel Wehrmachtbericht il bollettino di guerra della Wehrmacht il 25 aprile 1944. ma non si sa se e quando gli fu elargita, gli fu data la croce di ferro di prima e di seconda classe. Altre fonti, altri studiosi, altri storici riferiscono che venne proposto quattro volte per la croce di cavaliere della croce di ferro e se la sarebbe sicuramente meritata al pari di Otto Carius e se la sarebbe meritata molto ma molto ma molto di più rispetto al cocchino della propaganda al cavaliere nero al baronesso corazzato Michael Wittmann. ma ma qui entra in ballo la dura realtà di un regime oppressivo opprimente e occhiuto come quello nazista che sapendo quanto poco nazista fosse Knispel praticamente sembra che gli dissero ok tu hai picchiato un membro degli Ensign Gruppen ok sei indisciplinato ok sei irrequieto irresponsabile sei una maledetta testa calda hai rapinato un treno non ti mandiamo in galera perché ci servi sei il nostro migliore asso dei corazzati ma tu non diventerai mai e poi mai cavaliere dell'ordine della croce di ferro e così fu Knispel come dire ebbe una ebbe una carriera in quattro anni di carriera ebbe una carriera ripeto militare piuttosto tormentata molto amato dai suoi molto amato dal suo equipaggio credo che gli volessero tutti bene ecco ma decisamente molto mal tollerato dai suoi superiori che sotto sotto non vedevano l'ora che i russi lo ammazzassero perché ripeto era considerato un pessimo esempio nonostante il suo grande valore in battaglia nonostante la sua grande abilità di artigliere di cannoniere prima e di comandante di carri di capocarro poi nispel nispel era considerato un pessimo esempio per i suoi vuoti scarsa fede politica in subordinazione in disciplina una certa tendenza a cacciarsi nei guai una certa tendenza a non tenere a freno la lingua una certa tendenza ad alzare le mani su chi gli rompeva le palle signori come definirlo se non un fottuto metallaro ecco c'è nispel era questo cioè ci sono quello che si sa sulla sua carriera ripeto parlano di un combattente eccezionale di un grande cannoniere di carri armati di un eccezionale capocarro che avrebbe sicuramente meritato la nomina ad ufficiale cioè scusate una cosa Wittmann per Ville Boccage che diciamoci la verità le sue sette vittorie erano come dire uno Sherman carro comando con il cannone di legno finto due Stewart un Valentine e tre Bren Carrier con le altre insomma con le famose 27 vittorie di Wittmann a Ville Boccage non esistono perché uno Wittmann a Ville Boccage non attaccò da solo ma attaccò con altri tre tigre del centounesimo battaglione cari pesanti delle SS ok a Ville Boccage Wittmann infilò i tigre nel posto più sbagliato possibile un centro abitato entrare in un centro abitato con un tigre vuol dire semplicemente cercare di suicidarsi come di fatti avvenne nel pomeriggio di quella giornata la mattina Wittmann arriva con i suoi tigre sorprende la 27esima brigata corazzata britannica che sta per dare il via all'operazione Perch e vai spara che ti spara quei quattro tigre fanno letteralmente a pezzi una insomma una mezza brigata una mezza brigata corazzata britannica ok ma 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 quelle non erano tutte vittorie di Wittmann ok erano vittorie anche dei suoi uomini che gli attribuì la propaganda ok propaganda che amava molto poco uno come Knister già facevano fatica a digerire uno come Carius cioè Otto Carius contrariamente a Knispel era metodico disciplinato molto cioè come dire era metodico disciplinato sempre elegante sempre ben vestito molto come dire molto fotogenico anche lui e come dire a Carius insomma come dire gli fioccarono fior di decorazioni addosso perché diciamoci verità Otto Carius è stato un grande comandante di carri tedeschi è stato un grande comandante Knispel probabilmente avrebbe meritato molto più di lui perché ripeto era bravo era pure più bravo però c'era questo problema se voi guardate la foto guardate la foto che ho messo in copertina cioè vi sembra un fervente e fiero nazista questo qua vi sembra che una propaganda come quella nazista potesse valorizzare un elemento così che poi oggettivamente insomma guardatelo però bello fiero sorridente cazzuto metallaro fino al midollo anche se all'epoca il metal non esisteva uno stramaledetto teppista cioè ripeto una via di mezzo tra Josef Porta caporale per grazia di Dio dei libri di Sven Hassell e testa matta dei guerrieri testa matta di Kelly's Heroes pensateci bene guardatelo guardatelo un personaggio fenomenale un personaggio che andrebbe veramente studiato cioè basti dire una cosa pare ripeto il sottolino pare quando si tratta di queste cose bisogna sempre dire la parola pare sembra si dice è stato narrato alcune fonti riferiscono che abbia fatto fuori con un colpo da 88 mm un T34 a 3000 metri se la cosa è vera credo che sia una delle uno dei kills una delle vittorie di carro armato conseguite alla maggiore distanza durante la seconda guerra mondiale cioè oggettivamente tenete presente una cosa quando si narrano certi eventi bellici bisogna sempre tenere presente che un conto sono le rivendicazioni un conto sono le vittorie che uno si attribuisce un conto sono i conti della serva della propaganda e un conto sono i registri di quelli dall'altra parte che ti dicono oggi abbiamo perso tot camion tot carri armati tot semi cingolati tot semoventi ad opera dell'azione nemica e la stessa cosa facevano i tedeschi le perdite venivano segnate e in base alle ricerche successive il totale di vittorie di Knispel è sorprendentemente vicino a quello che gli viene attribuito cioè se gli vengono attribuite ripeto 168 mezzi corazzati avversari distrutti sembra che in realtà ne abbia distrutti solamente 150 per dire insomma un un grande capocarno un grande comandante di mezzi corazzati un combattente incredibile un combattente insomma per per Knispel il fare il militare la vita militare consisteva semplicemente a combattere b combattere c combattere d rompersi i coglioni a morte quando non combatti e questa cosa potete immaginarvi gli causò enormi problemi era un indisciplinato era un irregolare era un indipendente era uno spirito libero era un fottutissimo era un fottutissimo pazzo da scusate era un fottutissimo pazzo da legare però era una follia lucida era era ripeto non era un avventato non era un 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 cretino che si lanciava alla carica alla cieca no 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 come Otto Carius anche Knispel faceva ricognizioni anche Knispel valutava bene il terreno su cui doveva combattere anche Knispel come Carius valutava bene la situazione e non partiva mai all'attacco a testa bassa non sopravvisse alla guerra noi sappiamo che non sopravvisse alla guerra e il 25 aprile se non ricordo male del 1945 in quella che ora è la Repubblica cieca il giovane perché ripeto aveva neanche 25 anni Knispel morì ferito in combattimento il suo carro armato venne investito da insomma venne colpito dai proiettili di alcuni carri armati sovietici Knispel si prese una scheggia in testa fu trasportato in ospedale e morirà il 28 aprile 1945 c'è da dire una cosa c'è la la sua tomba al cimitero di Bernot è stato portato lì nel 2014 era stato sepolto era morto era morto in un ospedale da campo quando quando morì dopo le gravi ferite riportate in combattimento morì in questo sfedale da campo fu sepolto in una fossa comune con altri 40 soldati questa fossa comune venne ritrovata nel 2014 venne come dire venne come dire identificata dagli studiosi la salma di Nispel e venne tumulato al cimitero di guerra tedesco centrale a Bernot dove tuttora riposa pace all'anima sua ripeto Nispel è un personaggio affascinante folle simpatico impossibile non provare non provare simpatia per lui impossibile assolutamente e che vi posso dire un figo della madonna una testa di cazzo come se ne sono viste poche ma in senso positivo un ignorante un insubordinato un indisciplinato che per lui contava soltanto una cosa mettere proiettili nel cannone del suo tigre e sparare quello contava per lui del resto non gliene fregava niente tant'è che addirittura sembra ripeto rifiutò durante la sua carriera rifiutò più di una volta che gli venissero attribuite vittorie non sicure ovvero sia eravamo tre tigre sparavamo contro dei bersagli in totale ne abbiamo seccati cinque sei sette otto quelli che erano e nispel ma quanti ne hai beccati te non lo so non importa dategli agli altri lui ragionava così era fatto così era indubbiamente un personaggio fantastico non lo si può definire altrimenti matto come un cavallo insofferente della vita militare insofferente delle regole militari senza peli con la lingua con due palle così e un fegato in acciaio foderato in amianto avrebbe meritato sicuramente una carriolata di decorazioni invece ripeto una probabile croce di ferro di prima e di seconda classe l'ordine militare della croce tedesca in oro e il distintivo in argento per carristi scusate ma nient'altro perché questo ripeto perché non era il cocco della propaganda non era spendibile per la propaganda non voleva neanche saperne e se ne sbatteva allegramente le balle non fu mai promosso ufficiale non venne ripeto fu deciso nelle alte sfere a quanto pare fu deciso a quanto pare di non dargli mai la croce di cavaliere della croce di ferro o se gliel'avessero data avrebbe dovuto come dire distruggere altri 200 carri no si preferì favorire il più tranquillo più metodico più presentabile Otto Karius e soprattutto la superstar dei carlisti tedeschi Michael Wittmann che oltre ad essere affascinante bello elegante e devoto al partito nazista Wittmann era pure delle SS quindi logicamente con uno come Wittmann la propaganda ci andava decisamente a nozze attribuendogli molte vittorie che non erano sue attribuendogli un'aurea di mito che un'aura di mito che oggettivamente non meritava mentre avrebbe meritato molto di più il suo contraltare dell'esercito Kurt Nispell il pazzo il matto il joker il metallaro l'adorabile splendido fantastico inarrestabile testa di cazzo delle Panzerwaffe della Panzerwaffe un personaggio incredibile indubbiamente il progenitore di testa matta può essere ma sicuramente rimane un personaggio incredibile e affascinante tutto qua quindi ora cari signori adesso tocca a voi come sempre commentate qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate se avete qualche cosa in più da raccontare a proposito di Kurt Nispell non dovete far altro che scrivere qua sotto ah notate bene una cosa Nispell non fece in tempo a scrivere le sue memorie nel mio video di qualche anno fa sul tigre io feci un errore siccome come sempre non avevo preparato niente di scritto avevo fatto confusione citando e chiedo scusa delle inesistenti memorie di Nispell feci una stupidata andai in confusione dovessi spiegare ma perché l'ho detto ho sbagliato perché ho detto così perché ho parlato delle memorie di Kurt Nispell oggi ho sbagliato voglio che vi devo dire ho sbagliato colpa mia quindi ripeto come sempre qua sotto commentate 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 raccontatemi voi qualche cosa di più se lo sapete su Nispell e come sempre come al solito arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao